La città che cambia, la città che diventa più bella, un nuovo passo avanti per il Manfrini ha approvato il progetto esecutivo. In pochi mesi siamo riusciti ad approvare un progetto che oggi è esecutivo di rifunzionalizzazione di questo immobile che diventerà il cuore del museo diffuso della marineria a Fano, che ospiterà sia il museo della marineria ma anche l'auditorium del mare, cioè uno spazio molto bello e qualificato aperto alla cittadinanza. Abbiamo oggi presentato il progetto esecutivo per un importo di 2 milioni di euro. La settimana prossima uscirà la gara e l'affidamento dei lavori sarà nelle prossime settimane e questo andrà a pari passo, i lavori del Manfrini andranno a pari passo con un'altra importantissima opera che è il sottopasso pedonale realizzato da Ferrovie dello Stato di Via Nazario Sauro. Mi piace sottolineare questo aspetto, la visione che abbiamo avuto di città e queste sono tante schede di un puzzle che giorno dopo giorno si uniscono e rendering che diventano realtà con questo risultato che è stato un percorso complesso. Oggi abbiamo approvato il progetto esecutivo e quindi la settimana prossima andrà in gara. Sarà un anno e mezzo di lavoro però quello che mi piace sottolineare è questo risultato di una città che si trasforma, di una città che è sempre più vicina tra il centro storico e il mare collegata, questa passeggiata che idealmente una persona può partire dalla piazza attraversando il corso, scendendo sulla darsena borghese, attraversando il sottopasso e arriva al futuro museo per poi proseguire fino al faro. Quindi è un insieme, un progetto complessivo che tassello dopo tassello stiamo realizzando e non sono parole perché questi sono tutti atti concreti, tutte gare appaltate quindi non nascondo la soddisfazione, poi ovviamente il risultato complessivo si vedrà in un giro di un paio d'anni ma sono le cose ormai tutte definite con tanto di risorse, tanto di progetti e tanto di gare d'appalto.